La fiducia determinata chiaramente da fattori esterni all'economia, molta incertezza per quello che politicamente leggiamo ogni giorno e non ci dà una certezza e un'indicazione anche di una strada e in questo momento il sentiment sia da parte del consumatore ma anche da parte dell'imprenditore è importantissimo. Noi vediamo che anche nelle economie più avanzate e oltre che come l'Italia il dato della fiducia è forse il dato che economicamente viene rilevato e viene evidenziato prima di dati numerici. Le imprese di che cosa hanno bisogno? Di maggiore sicurezza dal punto di vista politico, di incentivi sicuri, di vedere un cliente che magari ritorna ad avere fiducia anche nel servizio di prossimità? Le imprese hanno soprattutto nel commercio e nel turismo bisogno di certezze, hanno bisogno di tranquillità quindi il clima soprattutto politico sociale non deve essere ogni giorno in agitazione e hanno bisogno di un sistema che sia molto più semplice, molto più sburocratizzato. Poi abbiamo il grande tema della fiscalità, non è possibile che imprese soprattutto le micro imprese talvolta anche allocate in paesi dove danno un servizio più sociale siano vessati fra imposte, tasse, tasse locali. Una concorrenza pericolosa è quella dell'e-commerce? Ma diciamo è sleale perché ogni negozio, ogni bar, ogni ristorante giustamente deve pagare le sue imposte, deve pagare lì ogni mese. L'e-commerce fa parte ormai dell'economia che viviamo giornalmente, però non ha, ed è un tema europeo, anzi internazionale, dove l'Europa è sempre stata sfuggente, non abbiamo quella equità fiscale e di trattamento che purtroppo le piccole imprese, le medie imprese devono adempiere.